Il pezzetto di legno aveva accumulato e quindi come si rilascia questa energia? Sotto forma di vibrazioni praticamente. Quindi un terremoto cosa c'entra con la bacchetta di legno? Sono le rocce, in questo caso, che accumuleranno energia e quando le rocce arriveranno a rottura rilasceranno questa energia sotto forma di onde sismiche, cioè di vibrazioni. Quindi questo modello qua è un modello che si può applicare anche alle rocce. Se noi al posto della bacchetta di legno mettessimo delle rocce, si può vedere che queste vengono deformate fino a un certo punto, accumulano energia, ma poi si romperanno. E quindi questo va sotto il nome della teoria del rimbalzo elastico. E quindi si accumula, accumula energia, ma poi a un certo punto viene liberata praticamente. In quanto tempo avviene questo meccanismo? Alcune volte anche in milioni di anni, no? Quindi si accumula, si accumula, si accumula, e a un certo punto l'energia si libera. E questo è un esempio di faglia. Cioè di rottura, quindi frattura con spostamento. Se noi vivessimo vicino ad una faglia, cioè nelle zone in cui si è accumulata questa energia e poi viene liberata, noi ne risentiremmo attraverso delle onde sismiche, no? Questo è un tipo di faglia normale o diretta, cioè quando si ha un'estensione in pratica, no? Quando in movimento della litosfera è nel verso opposto. Per darvi un'idea, nel 2016 il terremoto di Amatrice provocò, diciamo, su questa faglia, che è la faglia di Castelluccio di Norcia. Per chi non lo conoscesse, Castelluccio di Norcia è famoso per la piana, dove vanno a fotografare la fioritura delle lenticchie, per esempio, no? Troverete molte foto in giro, diciamo, di questa piana, ma se uno guardasse un po' più in alto, scorgerebbe questa frattura, questa che vi indico con le frecce adesso, è che però, vista da vicino, diciamo, è una faglia. Nel 2014 fu fatta questa foto lungo questa faglia, nel 2016 sono ritornati in questa zona e come potete vedere dalle piante che sono rimaste là, si è spostato, praticamente, in questo caso, questo strato di faglia si è spostato di circa un metro in un giorno. Quindi immaginate che adesso in Turchia si parla di tre metri. Ad Amatrice ci fu questa, diciamo, differenza di circa un metro, no? Questa invece è una faglia di compressione, questa invece è una faglia trascorrente, vi faccio vedere il movimento, cioè scorre senza, tra virgolette, distruzione, no? Però il problema qual è? Che se scorre, e qua è proprio la Turchia questa, però la Turchia del 99, e adesso hanno avuto, naturalmente, episodi simili, cioè ci si accorge che sotto c'è qualcosa che si è mosso perché i binari del treno vengono deviati in questo modo qua. Quindi noi ricostruiamo, diciamo, che c'è un blocco che si è spostato da una parte e un blocco dall'altra, no? Naturalmente i treni, in questa situazione qua, non possono, naturalmente, circolare, no? Deraglierebbero. E se voi andate a vedere le foto di questi giorni, trovate tanti di questi, diciamo, fenomeni, che ne so, in un vigneto, in un campo arato, si notano delle linee che non sono più parallele, ma sono state distorte, eccetera. Sono tutti fenomeni dovuti a queste faglie. Quindi, ricapitolando, il terremoto accumula rocce che accumula energia, a un certo punto le liberano. Ma tutto dipende da dove si è accumulata questa energia e dove c'è la rottura. Noi diciamo che in profondità, chiamiamo ipocentro, dove, da dove, praticamente, queste onde sismiche vengono generate. Ipo in profondità, quindi, a cui corrisponde, però, un epicentro, quindi, in superficie, diciamo, da cui sembrano poi partire queste onde, no? Quindi, voi trovate, sentite spesso parlare di un ipocentro superficiale, un ipocentro profondo. Più è superficiale, più è devastante, tra virgolette, a parità di energia. Più è profondo, meno effetti ci saranno in superficie, no? Ma queste onde che si generano, come le dobbiamo immaginare? Le dobbiamo immaginare come vibrazioni, come onde di volume, e quanti tipi di onde abbiamo? Abbiamo delle onde longitudinali, chiamate di compressione, che comprimono la roccia in questo modo qua, non le rocce. Abbiamo delle onde, invece, trasversali, che fanno vibrare, praticamente, il terreno in questo modo qua. Però abbiamo delle onde, poi, superficiali, più complesse. guardate questi puntini, diciamo, colorati in azzurro, che giro che fanno, no? Allora immaginate che queste sono particelle di terreno, sono rocce che, a un certo punto, praticamente, vengono sollecitate in questo modo. Per capirci meglio, le onde primarie sono queste, no? Cioè, dove, vedete, la direzione, c'è una direzione di propagazione e la particella evidenziata qua, che cosa fa? Praticamente, viene compressa, a un certo punto, e poi si dilata, no? Ma la direzione di propagazione corrisponde alla direzione in cui avvengono questi fenomeni. la velocità di propagazione di queste onde, quant'è? Diciamo, arriva fino a 8 km al secondo, però, mediamente, siamo sui 5 km al secondo. 5 km al secondo, eh? Quindi, quando vuoi, si propaga un'onda del genere, viaggia, diciamo, velocissima. Le altre onde che si generano sono queste, queste sono le onde S, chiamate anche primarie, secondarie, no? Quindi, sono meno veloci, infatti, diciamo, che sono intorno ai 3 km al secondo. Quindi, arrivano dopo. Quindi, spesso, quando arrivano due scosse di un terremoto, non è che sono due eventi sismici diversi, ma è lo stesso terremoto che ha prodotto questi due tipi di onde. Arrivano le prime onde, poi arrivano queste. Però, sono due onde diverse, perché queste fanno muovere le particelle del terreno in maniera trasversale rispetto alla direzione di propagazione delle onde stesse. Qual è l'altro problema? Che poi si generano con l'interferenza altre onde superficiali. E vedete qua questa particella che giro fa. Cioè, queste onde che si generano dopo, e quindi arrivano, sono ancora meno veloci, arrivano dopo, in genere, sottopongono il terreno a questi movimenti, no? esistono anche onde superficiai di love che fanno fare quest'altro movimento qua. Quindi, quando noi dobbiamo progettare un edificio antisismico, bisogna progettarlo tenendo conto dei vari tipi di onde, quindi delle onde P, S e dei tipi di onde superficiali. non si può progettare un edificio diciamo, basandosi solo su un tipo di onda. Qua, per capirci, questo lo potete fare anche voi, potete prendere, io prendevo qualche volta in classe il coperchio del contenitore della carta, no? Quello verde. Voi avete un disco in mano, camminate, mentre camminate, muovete in questo modo questo disco e quella è una simulazione delle onde P. Quindi scuote praticamente in questo modo il terreno, no? Le onde S invece dovete muovere sempre camminando il disco in questa direzione verticale. Per simulare le onde di Rayleigh praticamente dovete muoverlo in questo modo qua quelle di Love mentre sempre camminate in questo modo qua. Quindi immaginate che cosa può succedere a un edificio quando gli arrivano tutte queste onde. Infatti si parla di movimento sussultorio, ondulatorio, eccetera. Quando si parla di questo ci si riferisce all'arrivo di questo tipo di onde. Chiaro? Quindi gli edifici vengono progettati per resistere a questo tipo di onde. Come le misuriamo le onde sismiche? Allora, con dei sismografi. Però, per quello che abbiamo detto, dobbiamo cercare di misurare la componente verticale e orizzontale. Quindi, in realtà, i sismografi misurano diciamo, queste componenti che poi vengono tracciate su un sismogramma, cioè un diagramma appunto in cui si vede una cosa del genere. Guardando un sismogramma del genere dice, ma come lo dobbiamo interpretare? Questo è il tempo, vedete, c'è un minuto tra una riga tra una colonna e l'altra, questo è l'inizio del terremoto, questa è la fine del terremoto, quindi, qua si è svolto per dire che ne sono tutte in dieci minuti. Queste sono le onde P, le prime che arrivano e queste sono le onde s. Quindi, quando io guardo una cosa del genere, questa distanza qua, tra l'arrivo delle P e le s, mi fa capire quanto è lontano il terremoto, se è avvenuto a cento chilometri da me o a dieci chilometri o a cinque chilometri eccetera, no? Quindi, questa distanza in tempo mi fa capire questo, quindi qua per dire dall'arrivo delle onde P all'arrivo delle onde S sono passati per dire quattro minuti, quindi vuol dire che se voi fate il calcolo di chilometri al secondo potete capire a quanti chilometri da voi è avvenuto è avvenuto la diciamo l'epicentro del del terremoto, no? E poi arrivano le onde superficiali queste qua. Quindi, questi sono i tre eventi che si possono dedurre più o meno esemplificando da un sismogramma. Questa è un'animazione che si vede in questa animazione? Le onde P abbiamo detto sono quelle più veloci e quindi in un terremoto qua voi vedete arrivare prima le onde P poi arrivano le onde S e poi si genereranno le onde superficiali. Allora provate a vedere poi ve lo farò vedere con un'altra animazione di edifici che fine fanno quando arrivano le onde P e le onde S e le onde superficiali. Allora quando arrivano le onde P quando arrivano le onde P praticamente gli edifici saltano no? Si vedono saltare quando arrivano le onde S gli edifici si muoveranno in maniera molto diversa. c'è anche la muta che si muove quindi movimenti sussultori ondulatori eccetera poi arrivano le onde superficiali e vedete il tetto di queste case come viene praticamente mosse in maniera diversa rispetto a tutto l'edificio no? e qua si vede che ne so nel punto A avremo una cosa un sismogramma del genere punto B un po' più lontano avremo questo nel punto D che è quello più lontano avremo un sismogramma diverso quindi noi così riusciamo a capire dalle stazioni sismiche dove è avvenuto il terremoto a che distanza è avvenuto il terremoto no? qui c'è un'altra animazione che interessa un solo edificio per far capire meglio onde P onde S onde superficiali meno veloci quindi arrivano le onde P si salta arrivano le onde S si muove edificio in questo modo qua poi non è finita perché possono arrivare le onde superficiali che possono magari distruggere l'edificio che purtroppo diciamo crolla e magari si era salvato rispetto alle prime onde infatti noi vediamo spesso questi fenomeni cioè noi vediamo delle case che sono anche ad Amatrice si vedevano che sono rimaste in piedi poi con le scosse successive praticamente diciamo sono crollate come valutiamo adesso ci vedo di stringere no? perché come valutiamo i terremoti allora abbiamo due scale la scala Mercalli è la scala Richter la scala Mercalli che cosa misura? la scala Mercalli misura l'intensità di un terremoto cioè quello che è diciamo una scala empirica cioè quello che sono stati gli effetti per esempio la scala Mercalli mi dice se voi andate a leggere la scala Mercalli si capisce bene cioè io mando uno di voi per esempio nel luogo dove è avvenuto il terremoto e voi mi dite sono caduti gli intoneci i camini le tegole rottura di vetri danni di scassi di entità i muri piccole crepe suono di campane eccetera settimo grado la scala Mercalli no? se andassi a vedere invece il dodicesimo distrugge ogni opera umana sposta grandi massi rocciose lancia in aree oggetti quindi più di questo che deve fare un terremoto non è possibile quindi una scala che praticamente ha un inizio e una fine no? e per esempio nel 1980 se guardassi la scala Mercalli dove erano avvenuti i maggiori danni erano queste zone qua in queste zone nel settimo grado in queste zone del nono e c'è decimo addirittura no? cioè i danni che ha prodotto l'intensità invece se volessi misurare l'energia perché voi sentite parlare spesso di magnitudo no? della scala Richter la scala Richter approssimando si può dire che è l'energia liberata da un terremoto no? ma questa energia questa scala Richter ha una fine non ce l'ha una fine è come dire qual è il record di salto in alto oppure dei 100 metri no? è questo quindi quello è il massimo che si può fare no? magari un domani qualcuno supererà quel record quindi non possiamo mettere una fine a quei valori no? la scala Richter per adesso noi abbiamo avuto dei terremoti molto forti però purtroppo a differenza della Mercalli non possiamo mettere una fine dire non ci saranno terremoti più forti di questo no? e quindi è una misura indiretta dell'energia il problema della scala Richter qual è? che è una scala logaritmica e quindi tra un valore di magnitudine e quello successivo in realtà dovete moltiplicare per 30 no? per avere quindi paragonare diciamo due valori che sembrano molto vicini nella scala Richter in realtà sono molto distanti questa è una piccola mappa dei terremoti per rendervi conto che sono avvenuti in Italia a partire da 2005 quindi non molti anni fa e tutti questi cerchietti i cerchietti grandi naturalmente rappresentano i terremoti più forti che si vede in questa foto qua naturalmente gli effetti di un terremoto però se guardate sullo sfondo le case sembrano integre come mai? perché dipende anche dal tipo di costruzioni ma purtroppo ci sono anche degli effetti locali dal tipo di rocce che ci sono sotto quindi nello stesso paese per dire cioè che ne so il centro di Como è diverso da geologicamente dal da Sagnino da queste zone qua per dire o dalla zona di Brunate no? cioè un terremoto potrebbe avere effetti diversi in valle piuttosto che sui crinali praticamente di una montagna no? questo era riferito sempre a terremoto di Amatrice quando dopo una distruzione quasi totale del paese c'era questa famosa Casa Rossa che era rimasta in piedi ma in realtà con le scosse dei giorni successivi la Casa Rossa è questa qua cioè è stata poi eh questa è crollata praticamente no? terremoti in Italia per paragonarli a quelli della Turchia eh quanto sono stati eh forti e quante vittime hanno fatto no? allora provate a vedere 7 720 666 4 6 l'Aquila 2009 5 8 Messina eh 120.000 vittime adesso se ne parla eh il mio collega ha detto oltre 20.000 oltre 22 24.000 vittime Messina 1908 120.000 vittime come mai? Perché ci fu un maremoto associato al terremoto la gente scappò in spiaggia perché che cosa ti può crollare addosso in spiaggia? niente no? voi magari fareste lo stesso eh l'avreste pensato allo stesso modo scappo in spiaggia che mi deve succedere? in spiaggia non mi crolla nulla addosso peccato che ci fu un maremoto e quindi le vittime si spiegano con questo maremoto anche no? Abruzzo 1915 33.000 vittime 1980 quasi 3.000 vittime la sismica dell'Italia come vedete la Sardegna non ha praticamente nulla e il rischio associato in Italia quindi dove ci aspettiamo i terremoti? qui ce li aspettiamo in questa zona qua non in queste poi questa è una giusto per farvi vedere nella scala dei tempi come si propaga velocemente un terremoto no? dopo 7 secondi 9 secondi questa è l'Italia poi farà vedere l'Italia più in generale quindi avevo detto 5 km al secondo 3 km al secondo e gli effetti praticamente sono questi vedete dopo 25 secondi io per avere un'idea no? questo è dopo 34 secondi e quindi vi da l'idea della velocità di propagazione di queste onde sismiche d'accordo io ho finito si ho fatto quella slide togliere le slide e collegare le slide ah ok allora adesso la mia classe prima può tornare in classe perché vi devo sostituire ci prendiamo ci prendiamo ci prendiamo un attimo di pausa e poi e poi riprendiamo no 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 un attimo di pausa nel senso che sì come non ho segnato niente poi queste cose le sistemeremo non ho mai ok le sistemeremo le sistemeremo le sistemeremo poi sta bene 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 Grazie a tutti. 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 Lo studio. Grazie a tutti. 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 Forza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.